San Cristoforo Cinocefalo, protettore degli sportivi, dei pellegrini, dei viaggiatori e dei postini, è una delle figure più emblematiche della storia della cristianità. Prima di raccontarvi la leggenda e la storia dietro questo particolare personaggio, mi sembra giusto spiegarvi cosa sono i Cinocefali. I Cinocefali, dal greco antico testa di cane, rientrano tra i popoli mostruosi, ovvero le popolazioni che si incontrano nella mitologia greco-latina e che presentano sì fattezze umane, ma anche alcuni aspetti mostruosi. Tra i cosiddetti popoli mostruosi rientrano i ciclopi, i blemmi, gli sciapodi e i Cinocefali. Questi ultimi sono raffigurati come giganti dal corpo di uomo e la testa di cane. Alcuni sostengono che i Cinocefali siano nati dall'unione tra le amazzoni e dei cani. Altri appoggiano la tesi secondo la quale discenderebbero dal re greco Licaone, che fu trasformato in lupo da Zeus. Ma con molta più probabilità il Cinocefalo deriva dal famoso dio egizio Anubi, metà uomo e metà sciacallo, custode delle necropoli e dei riti funebri. Per quel che riguarda il protagonista del nostro video sappiamo che in realtà originariamente non si chiamava Cristoforo, ma Reprobo e aveva l'aspetto di un gigante con la testa di cane. Dotato di grande forza e appartenente alla tribù degli antropofagi, sarebbe vissuto intorno al III secolo d.C. Il suo scopo nella vita era quello di servire il Signore più potente di tutti. Infatti fu a servizio di svariati uomini di potere, tra cui un re. Proprio durante il suo servizio alla corte di questo re sentì un giocogliere cantare una canzone sul diavolo. Ma ogni volta che veniva pronunciata la parola diavolo, il re si faceva il segno della croce. Questo gesto compulsivo non passò inosservata a Reprobo, che incuriosito chiese al suo padrone una spiegazione. Dopo varie insistenze, il re gli confidò che quando sentiva nominare il diavolo si faceva il segno della croce per impedire al demonio di nuocerli. Il Cinocefalo concluse quindi che questo diavolo doveva essere più forte del suo attuale padrone e quindi senza se e senza ma lo abbandonò e si mise alla ricerca del diavolo per mettersi al suo servizio. Mentre stava percorrendo una landa deserta, vide venirgli incontro un personaggio dall'aspetto spaventoso. Il personaggio in questione era ovviamente il diavolo. Reprobo chiese di potersi mettere al suo servizio e il demonio, senza pensarci due volte, accettò. Un giorno però il Cinocefalo vide il diavolo cambiare strada, spaventato da una croce. Non capendo la strana reazione, Reprobo chiese al demonio delle spiegazioni. Il diavolo, dopo un iniziale silenzio, confessò di avere paura della croce perché essa rappresentava Gesù Cristo. Anche questa volta il gigante si rese conto che esisteva qualcuno di più potente del diavolo e senza pensarci due volte lo abbandonò, mettendosi alla ricerca di Cristo. Ovviamente non sapeva da dove cominciare la sua ricerca, ma grazie a informazioni raccolte qua e là, riuscì a recarsi da un saggio eremita che a quanto pare possedeva le risposte alle sue domande. E alla domanda di Reprobo su come incontrare Gesù, l'eremita rispose che bisognava o digiunare molto o pregare molto. Ovviamente Reprobo non conosceva il significato di queste parole e aveva bisogno quindi di un altro metodo. A questo punto l'eremita gli indicò al fiume e gli disse che con la sua statura avrebbe potuto aiutare i poveri viaggiatori ad attraversare le acque. In questo modo avrebbe reso un servizio a Cristo che sicuramente si sarebbe fatto vedere. Reprobo quindi cominciò subito ad aiutare le persone ad attraversare il fiume. Una notte sentì la voce di un bambino che lo chiamava, chiedendogli aiuto per attraversare il fiume. Il gigante uscì dalla tenda nella quale dormiva ma non vide nessuno. La stessa scena si presentò anche il giorno dopo e il giorno dopo ancora. Ma alla terza notte Reprobo vide finalmente chi lo stava chiamando. Ovviamente si caricò subito il bambino sulle spalle e cominciò ad attraversare il fiume. Ma a differenza di tutte le altre volte questa attraversata risultò molto faticosa. Il peso sulle sue spalle aumentava sempre di più, così come l'acqua. Per la prima volta il gigante pensò di non farcela ma fortunatamente riuscì a giungere dall'altra parte della riva. Reprobo, stupito, disse al bambino che durante la traversata gli era sembrato di avere sulle spalle il peso del mondo intero. Il bambino gli rispose che non c'era nulla di cui meravigliarsi, poiché sulle sue spalle aveva portato non solo il peso del mondo intero, ma anche colui che lo aveva creato, poiché lui era Gesù Cristo. Come prova delle sue parole il bambino gli disse di piantare un bastone per terra in prossimità della propria tenda e che il mattino dopo quel bastone sarebbe stato carico di frutti. Fu effettivamente così, il giorno dopo quel bastone era diventato una palma carica di datteri. Ma non solo, Cristo trasformò il viso di Reprobo da cane lupo a quello di una persona normale. A seguito di questi avvenimenti il gigante si convertì al cristianesimo, si fece battezzare dal vescovo Babila e prese il nome di Cristoforo, letteralmente il portatore di Cristo. Ma non è finita qui, poiché l'imperatore Decio, saputo ciò che stava accadendo in quella regione del suo vastissimo impero, andò su tutte le furie e inviò dei soldati alla ricerca del gigante. I soldati ovviamente riuscirono a ritracciarlo e lo catturarono chiudendolo in una cella. Durante la prigionia, Cristoforo fu torturato e tentato verso il peccato in vari modi, ma ogni tentativo di corruzione si rivelò inefficace. Fu a questo punto che l'imperatore ordinò che venisse colpito dalle frecce, ma tutti gli arcieri sbagliarono appositamente mira e uno di essi colpì addirittura l'occhio dell'imperatore. Prima di essere decapitato, Cristoforo suggerì a Decio di porre sulla ferita un po' del suo sangue miracoloso. A seguito della guarigione miracolosa del suo occhio, l'imperatore si convertì al cristianesimo. Questa è la versione cristiana della leggenda riguardante San Cristoforo, il santo dalla testa di cane. Ma la figura di San Cristoforo avrebbe anche un legame con i culti pagani riguardanti il moto astronomico di Sirio, stella appartenente alla costellazione del cane maggiore. Per gli ortodossi invece, San Cristoforo sarebbe stato in origine un soldato. Secondo quanto scritto da Dimitri di Rostrov, San Cristoforo sarebbe stato un cinocefalo cannibale, di nome Reprev, recatosi in Nordafrica per pregare Dio di riconoscergli il dono della parola. Il Signore glielo concesse e la bestia si convertì al cristianesimo e cominciò a servire i credenti della zona. La bizzarra notizia che un cinocefalo cannibale avesse ottenuto la parola dopo aver pregato Dio, giunsa alle orecchie dell'irascibile imperatore Decio, che spedì in Nordafrica una schiera di soldati perché lo catturassero. I soldati intercettarono il gigante e lo condussero in Antiochia. Durante il lungo cammino però, Cristoforo cominciò a dispensare miracoli, trasformò un bastone secco in un grande albero per ripararsi dal sole e prese a moltiplicare i panni per sfamare se stesso e i soldati che lo accompagnavano. Dinanzi a questi prodigi alcuni soldati romani si convertirono al cristianesimo, cosa che ovviamente non piacqua all'imperatore Decio, che non solo ripristinò l'ordine tra i sudditi che volevano convertirsi, ma fece anche decapitare San Cristoforo e i suoi ex soldati. Per quel che riguarda la testa di Canne del Santo ci sono svariate teorie. Una prima ipotesi sostiene che Cristoforo fosse un ragazzo bellissimo e corteggiatissimo dalle donne, ma stanco delle continue avance avrebbe chiesto aiuto a Dio. Per tutta risposta l'Altissimo sostituì la sua bella testa con quella di un cane, facendo fuggire tutte le spasimanti. Una teoria più semplice vuole che il Santo sia semplicemente nato così. Ma un'altra ipotesi ancora vuole il Santo originario di Chino Schefali, villaggio presente nella regione greca della Tessalia. Proprio da questo nome, per via di traduzioni sbagliate e fraintendimenti, si sarebbe tramandata l'idea che Cristoforo fosse un cinocefalo. Altra tesi è quella che descrive San Cristoforo come un barbaro della Cananea, un termine quindi molto simile alla parola canide, che, sempre per un errore di traduzione, avrebbe trasmesso la leggenda della testa di cane. Col passare dei secoli, il culto del Santo Cinocefalo si è steso ovunque, finché tra il XVII e il XVIII secolo fu gradualmente messo al bando. Nel 1667 il Sobor, il grande concilio di Mosca, originato dallo scisma provocato dal patriarca rivoluzionario Nikon, dichiarò San Cristoforo contrario alla natura, alla storia e alla verità stessa. Nel 1722 gli ortodossi cancellarono l'iconografia del cinocefalo e ne vietarono ogni riproduzione e culto. La maggior parte delle sue icone e affreschi venne distrutta quasi del tutto. Quel poco che resta è conservato nella cattedrale dell'Arcangelo al Cremlino di Mosca e nel Museo Bizantino e Cristiano di Atene.